Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami. Siamo con Andrea Ricci, il presidente dell'associazione, al quale chiediamo una nuova vittoria, visto che è una seconda postazione questa. Assolutamente sì, mi piace il termine vittoria perché alla fine è una vittoria fatta da squadra, diciamo, perché il nostro è un team a tutti gli effetti. Siamo amici, ecco perché l'associazione si chiama Amici del Cuore, nasce un anno e mezzo fa perché purtroppo dopo la spiacevole perdita di un nostro caro amico di a solo i 35 anni per un arresto cardiaco, abbiamo trasformato questo dolore in energia positiva. Abbiamo anche la nostra dottoressa, la cardiologa, la dottoressa Gabriella Ricci, quindi informazione, cultura e donazione. Allora, noi ci allarghiamo, infatti, verso la dottoressa e il dottore. Allora, dottoressa, quanto è importante la prevenzione in questo campo? La prevenzione innanzitutto è fondamentale. Il compito che abbiamo noi, che facciamo parte del comitato scientifico di questa associazione, è quello di creare sempre più una cittadinanza consapevole e attiva, in grado di poter intervenire, oltre che dal punto di vista della prevenzione, quindi di una serie di azioni che servono per migliorare la propria qualità di vita, ma anche, diciamo, il proprio stato di salute, guardandolo al futuro, anche poter intervenire in caso di urgenza o di emergenza. E questo è il compito che abbiamo io e il dottor Giovanni Mastrandrea, che accanto a me fa parte appunto del comitato scientifico. Lui è un anestesista, io sono una cardiologa e mi occupo di pazienti critici, per cui vogliamo trasmettere alla cittadinanza tutte le manovre che sono comunque delle azioni di tipo semplice, che può applicare ognuno di noi, qualsiasi persona, con una semplice istruzione, ma ci vuole veramente poco, un po' di impegno, può essere molto importante per salvare delle vite. Dottore, invece, dove si terranno questi corsi? I corsi li terremo qui su Bitonto, presso la sede della Croce Rossa di Bitonto, con una struttura dedicata. Il corso ha una durata in media di 5 ore, dedicate prettamente alla formazione, sia in parte didattica, teorica, dove spiegheremo inizialmente come vanno eseguite le manovre, come intervenire, quali sono le cause che portano anche alla problematica dell'arresto cardiaco, soprattutto nell'ambito bambini, nella nostra grande maggioranza, è legata piuttosto a un'insufficienza respiratoria, molto spesso legata a ostruzioni da corpo estraneo. Quindi, durante la formazione, spieghiamo anche come intervenire con semplici manovre sulle ostruzioni da corpo estraneo e nei bambini, malauguratamente la situazione dovesse aggravarsi, anche come intervenire con una rianimazione pediatrica, il cosiddetto BLS, in alternativa con il supporto del defibrillatore, che in questo momento si sta dotando, la cittadinanza, di questo dispositivo molto ma molto importante. Siamo con il dottor Abaticchio, sindaco di Bitonto. Allora, sindaco, Bitonto, sempre più città cardioprotetta? Sì, grazie soprattutto a questa straordinaria associazione, i cittadini, che sta davvero dando tutto, sta raccogliendo sponsorizzazioni, sta cercando di creare il meglio per la sicurezza di tutti quanti noi e queste sono le testimonianze di quanto è grande la comunità che indegnamente rappresenta entro da sei anni.